Ci siamo guardati, ci siamo attenti, chissà di questi che arriverà alla fine, chissà che completerà il percorso, che avrà la pazienza di stare qui, chi finirà col percorso e finalmente farà la professione che si scelta. Oggi siamo qua, sono tardi, e quello che tenthro Minuten forengde un pasionale, tutte le esperienze. Voglio cercare di ringraziarvi, per qualche cosa vi fa qui, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.